torna a bordo cazzo fanculo anche se sono il re dell'isola non mi va di morire nella tempesta dove sono? questa non è minu potrebbe essere pericoloso dicono che il posto sia popolato da uomini tarantola e quella zona più scura non mi piaceva per niente ok cosa potrei usare per sopravvidere? un cellulare? forse se qui prende chiamare può essere utile più vestiti possibile che la notte farà freddo cibo e acqua ciò che è avanzato va preso assolutamente anche le ciabattine se no rischio le vesciche ok ora posso avventurarmi verso il monte vomito aspetta ma questa è Kim Kao? allora faccio fare tutto a Mason, Havana, la Badabai e le altre guardie vado a mangiare